I giovani del PDL, l'attacco della Lega ha ucciso il tricolore, contestati Muraro e Verè. Pronto un volantinaggio per Treviso, il 19 marzo, manifestazione della presenza del ministro Giorgia Meloni. Edizione trevisiana dei nostri notiziari, a tutti voi un ben ritrovati. Avete sentito i titoli delle principali notizie di quest'oggi. La Lega ha assassinato il tricolore, iniziamo con la politica, epigrafe shock contro il carroccio, firmata dai giovani del PDL che alla vigilia delle celebrazioni per i 150 anni dell'Unità d'Italia chiedono anche ai leghisti di rispettare e di onorare il tricolore. Un attacco alla Lega, un attacco al carroccio senza precedenti. Sentiamo. Annunciano che il tricolore italiano è stato assassinato ed indicano anche il nome dell'assassino, la Lega. È un epigrafe shock quella che da domani comparirà sui muri della provincia di Treviso. A redigio i ragazzi della Giovane Italia, movimento di giovani pidiellini, infuriati per l'atteggiamento del carroccio sull'Unità d'Italia. Qui manca rispetto per i valori e per chi è caduto. È inaccettabile. L'attacco dei giovani pidiellini è rivolto a Leonardo Muraro, accusato di essere l'unico presidente di provincia in Italia, a non aver redatto un calendario delle celebrazioni. E soprattutto al segretario della Lega Nord, Gian Antonio D'Arè, che è anche sindaco di Vittorio Veneto, secondo il quale il 17 marzo, alla resa dei conti, si celebra la nascita della monarchia. Io credo che il suo contrastare l'unità d'Italia provenga dal retaggio culturale di essere stato un ex comunista. Una polemica rovente che conferma il crescendo di insofferenza dei giovani del PDL, sempre meno disposti a tollerare passivamente la Lega. Crediamo che sia il momento che il carroccio sulla bandiera si dia una regolata. E sempre meno disposti ad accettare le grida silenziose di chi dirige il PDL, come accade a Castelfranco, dove Giovana Italia sta raccogliendo firme contro il sindaco leghista Luciano Dussin per il tricolore negato all'oratorio di Salvatronda. Su questa bandiera e su questa battaglia, forse il nostro partito, il Popolo della Libertà, dovrebbe farsi sentire un po' di più. Con un obiettivo preciso. A lanciare un grido di riscossa nei confronti dell'aleato leghista. Grazie.